cottura della carne direi molto bene la salsa buona poi c'è la parte piccante salata un po' aggressive del caviale mi piace l'idea ha impiattato molto bene più o meno un po' come piatta caracco il signor caracco tu guarda quando un piatto è fatto bene io l'ho tagliato un pezzo ho toccato la salsa tra quattro elementi e il piatto è ancora bello e quindi questo è già un quid in più no grazie grazie